Un filato che arricchisce la proposta di materie che non hanno una stagionalità precisa e che suggerisce immediatamente un utilizzo di lunga durata. In mischia vengono lavorate fibre di cotone morbidissimo e fibre di cashmere riciclato certificato GRS per ottenere un blend di alta qualità ma del prezzo contenuto. Con un titolo 2,26 e diversi colori a stock service si propone per essere lavorato sulla finezza 12 in capi dall'aspetto prezioso che suggeriscono una portabilità che spazia dalla primavera fino alle lunghe notti estive. Si possono realizzare corre campione con un minimo di chilogrammi 50.